Raccogliamo io e il collega Teodoro numerose lamentele da parte di questi cittadini che si sono visti arrivare quasi tutti insieme i bollettini per il pagamento della mensa dell'anno precedente e ovviamente in una situazione di contingenza, stanno riaprendo le scuole, i libri, quando è tutto il necessario e l'occorrente, si trovano in difficoltà per il pagamento di questa tariffa. Ovviamente noi chiediamo alla società, al sindaco con cui abbiamo parlato, avremo un incontro di mattina, io e il collega Teodoro e al dirigente e all'assessore competente di intercedere nella ditta e cercare di fare dei piedi di rientro in modo che possano pagare tranquillamente il dovuto per l'anno precedente e sbloccare la password che immette per ovviamente la questione relativa al mangiare per l'anno corrente. Non è possibile, sono bambini, non si possono essere divergenze, non è che all'interno di una classe due mangiano, cinque no e quant'altro. Il problema, sono sicuro che è un problema non difficile da risolvere e sicuramente l'azienda che somministra i pasti ci verrà in conto rispetto a questa cosa. Qui non parliamo di non pagare, qui parliamo di una dilazione del pagamento che è differente, per cui non si chiede di fare dei buoni, siamo buoni, abboniamo tutto. No, le persone hanno la propria dignità, vogliono pagare ma non hanno questa disponibilità immediata, per cui una dilazione del pagamento la riteniamo una cosa corretta e giusta. E come ho detto prima, siamo d'accordo con il sindaco e queste cose vogliamo informare i cittadini perché molti si sono lamentati, ma i cittadini devono sapere con le conferenze stampa che questa amministrazione sta lavorando, come vedete stiamo lavorando, ma questa volta stiamo lavorando tutti insieme veramente per il bene della città.